Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Fine settimana che vedrà sempre l'anticicone sbilanciato a molte ad ovest, latitanti in aperto atlantico sulle azzorre e spazio quindi all'arrivo di correnti fredde artico-marittime dal nord atlantico, dal mar di Norvegia, mar del nord verso il Mediterraneo con altre perturbazioni a carattere invernale. Andiamo al dettaglio quindi per la giornata di sabato, inizialmente bel tempo sulla nostra penisola ma dal pomeriggio nubi in aumento sulle Tirreniche al nord, torneranno nella seconda parte del giorno delle precipitazioni sul nord-est, nevicate sulle Alpi settentrionali anche di Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia a quote medie tra i 700 e i 1200 metri di quota ma poi peggioramento in arrivo anche sulle centrali Tirreniche con qualche piovasco o rovescio sparso, meglio sul basso Adriatico e all'estremo sud, ma tutti i dettagli precisi li trovate come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.